Federico, direi un evento riuscitissimo. Ma sì, questo dovete dirlo voi, perché io ci ho messo a tutta per organizzare un evento del genere, perché voglio rendere partecipi un po' tutti i miei ragazzi che lavorano con me. Questo è il quarto anno che si festeggia questo evento, il quarto anno di LeaderFarm con il Verona, una crescita continua per entrambi, fortunatamente. Sì, fortunatamente, noi è quattro anni che sponsorizziamo l'Ellas, quattro anni che siamo a fianco della mia squadra, posso dirlo, perché come tifoso posso anche dirlo, e è andato tutto bene finora, perché dalla C alla A non possiamo dire niente. Mi sembrano molto contenti anche i tuoi dipendenti che hanno fatto un sacco di foto con Tony, il Minister. Sì, da vederli dal sorriso sicuramente, perché l'ho fatto apposta questo evento qua, per rendere tutti loro l'unica famiglia, quali siamo, che stiano in fianco ai suoi beniamini. Da sottolineare l'importanza che LeaderFarm è un'azienda veronese, come lo è Sartori, siamo stati qualche giorno fa, è importante che Verona e i veronesi, gli imprenditori veronesi, sostengano la squadra della città. Sì, ci tengo anch'io perché sai, noi Franklin, Sartori, anche tantissimi altri sponsor, SEC, in fianco a noi ci siamo, siamo in fianco al Verona, a dentro ai veronesi, come hai detto tu, ci crediamo, investiamo nel territorio, quindi per noi è anche una fortuna essere veronese. Il futuro del Verona è la salvezza che sta cercando di raggiungere sul campo, il futuro di LeaderFarm invece? Ma speriamo di non salvarci, a parte la battuta, sicuramente investire, come stiamo facendo in questi anni, sempre nella nostra azienda, nel campo del digitale, nel campo della stampa digitale, quello che è un po' il nostro futuro. Il brand Verona vi ha aiutato a crescere anche voi come azienda? Ma sicuramente, nel mondo veronese, ormai dopo quattro anni, presumo che qualche amico ce lo siamo fatto. Il nome sulla maglia, quella è stata l'emozione più grande di vedere il tuo nome, in una partita particolare, c'è stato un momento nel quale ti ricordi più volentieri? È meglio che non lo dica. Vabbè, la Juve l'anno scorso, quando hai fatto il pareggio, quando giochi con le big e hai la tua maglia, col tuo nome, magari parisi o magari anche vinci, vedi Napoli, per noi, insomma, è sempre una soddisfazione. Senta, in un periodo di crisi economica come questo, lei, a fianco all'Ella Sferona, ha continuato ad investire. Ci ha voluto un po' di coraggio, eh? Sì, sicuramente coraggio. Noi ci gradiamo nel settore della stampa digitale, sempre di grande e piccolo formato. Mailing, abbiamo investito molto sull'estero anche, a livello commerciale. L'estero, fortunatamente, ci sta dando fiducia e lavoro. Un'ultima cosa per me, è evidente che Ella Sferona e Leaderform hanno degli interessi economici, però oggi qui la sensazione è che sia più una grande famiglia che due realtà esclusivamente economiche. Sì, sicuramente, quello che voglio fare è capire anche io alle persone che lavorano poi all'interno dell'azienda che essere una grande famiglia tante volte aiuta.